Il panaro rientra negli argini, sono tornati a casa i 250 sfollati di San Rocco, frazione di Bonporto, nel Modenese. L'abbondante pioggia e il rapido disgelo hanno fatto salire in fretta le acque del fiume e di altri affluenti del Po, come il Secchia. Tanta paura per oltre 70 famiglie costrette ad evacuare le loro abitazioni nella notte tra Natale e Santo Stefano, quando il panaro è uscito dagli argini in vari punti, fiato sospeso per 24 ore fino al passaggio della piena. Adesso l'emergenza è decisamente rientrata e ieri sera alle 21.30 abbiamo chiuso ufficialmente il COC e quindi abbiamo potuto liberare tutti i volontari, i tecnici comunali che ci hanno accompagnato in queste ore calde. Un anno fa la stessa zona era stata interessata da un'emergenza simile, ora gli amministratori modenesi chiedono con forza interventi mirati per la sicurezza. Ci aspettiamo importanti finanziamenti da parte della regione, della provincia, dell'Aipo e speriamo che si riesca ad arrivare a gestire queste fasi di emergenza sempre con maggiori strumenti a disposizione, anche solo sapere preventivamente quali sono i punti degli argini più a rischio. Cessata l'emergenza resta alta la guardia, l'Emilia Romagna ha annunciato che chiederà lo stato di calamità. Flavio Isernia, Sky TG24, Bonporto.